Ti do 100 euro al mese se mi racconti tutto quello che fa il mio ex. Questa è la proposta scandalosa di una donna alquanto possessiva. È accaduto nella provincia di Chieti a seguito di una relazione interrotta. Terminato il rapporto tra i due, la donna non si è rassegnata e ha dato forma alla sua ossessione tramite pedinamenti, messaggi insistenti e richieste d'incontro. La stalker ha poi avvicinato anche una collaboratrice dell'uomo a cui avrebbe offerto del denaro in cambio di informazioni. Al categorico rifiuto dell'importunata le cose precipitano. Riprendono i pedinamenti e le diffamazioni anche nei confronti della collaboratrice, fino alla minaccia di pubblicare un video scandaloso, rivelatosi poi inesistente, che avrebbe dovuto raccontare al mondo la relazione sentimentale tra i due perseguitati. Quest'ultimi hanno deciso di raccontare tutta la vicenda ai carabinieri, che raccolte le testimonianze hanno proceduto alla denuncia alla procura della Repubblica di Chieti. Il reato contestato è quello di atti persecutori. Il giudice per le indagini preliminari ha emesso nei confronti della stalker un divieto di avvicinamento all'uomo e alla sua collaboratrice. Se il provvedimento dovesse essere violato, scatterà l'arresto.